eccola questa bellissima salamandra che abbiamo trovato oggi direttamente nell'acqua della piscina era lì che stava nuotando adesso infatti vi farò vedere un paio di riprese mentre nuota vedete che qui attaccata alla mia mano e adesso poi la lasciamo andare nel prato mi raccomando quando trovate queste non mettetele mai in bocca vabbè ovvio non leccatele o soprattutto non mettetevi le mani in bocca dopo che le avete maneggiate perché sono comunque velenose quindi adesso ce l'ho in mano ma subito dopo andrò a lavarmi molto bene le mani perché sono comunque velenose per l'uomo quindi mi raccomando però è veramente bella e prima abbiamo vista mentre stava nuotando proprio in piscina probabilmente era venuta di cercare acqua lasciamo andare ora ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.